cari amici della finanza sul web benvenuti a una nuova puntata del terremoto oggi parliamo di stati uniti d'america perché negli usa è in atto uno scontro che sta assumendo una portata davvero epocale e che ritengo condizionerà profondamente anche il futuro italiano come è sempre stato per tutto quello che avviene in america dopo la fine della presidenza di donald trump la spaccatura profondissima tra due anime contrapposte degli stati uniti quella liberal e quella conservatrice non solo non si è risolta ma anzi si è ulteriormente aggravata e in questo momento lo scontro riguarda uno dei temi che da un punto di vista antropologico è forse tra i più importanti in assoluto e cioè quello dell'aborto infatti cosa è successo è successo che alcuni stati a maggioranza conservatrice quindi governati dai repubblicani come il mississippi hanno promulgato leggi che limitano l'accesso all'interruzione di gravidanza nel tempo in particolare il mississippi ha limitato a 15 settimane quindi a circa quattro mesi il periodo massimo entro cui le donne possono scegliere di interrompere la gravidanza questa legge però entra in contrasto con una precedente con una sentenza della corte suprema degli stati uniti del 1973 questa sentenza per il caso roe contro wade in pratica ha garantito la libertà alle donne di tutti gli stati uniti quindi a prescindere dallo stato di appartenenza di accedere all'interruzione di gravidanza è stata quindi una sentenza storica che diciamo ha fatto ha fatto legislatura cioè ha trasformato il sistema giuridico che prima era frazionato cioè ogni singolo stato si regolava in maniera sostanzialmente autonoma questa sentenza del 73 invece ha stabilito come diritto federale quello di appunto praticare l'interruzione di gravidanza fino alla ventottesima settimana quindi fino a sei mesi e mezzo quando in pratica il il bambino il feto sarebbe in grado di sopravvivere anche al di fuori dell'utero materno poi i singoli stati possono adottare anche anche misure diciamo ancor meno restrittive e infatti in alcuni stati tra cui quello di new york è possibile interrompere la gravidanza anche in un periodo successivo il mississippi ma anche il texas con una legge ancora più severa poi lo vedremo ha invece stabilito un principio diverso e cioè che dopo la quindicesima settimana in italia sono 14 il non è più possibile praticare l'aborto ora le speranze del mondo liberal erano che la corte suprema degli stati uniti bloccasse questa legge del mississippi e ancor di più un'altra legge che invece è stata promulgata poco tempo fa dal texas che riduce a sei settimane quindi un mese e mezzo il tempo massimo e cioè quando inizia ad essere percepibile il battito del cuore del bambino nel grembo materno la speranza appunto era che queste leggi venissero bloccate dalla corte suprema la speranza ovviamente del mondo liberal ma invece non soltanto la corte suprema non lo ha fatto e quindi si pronuncerà sulla loro costituzionalità in e la sentenza è attesa per giugno ma ci sono ottime probabilità che viceversa le leggi vengano considerate costituzionali perché l'equilibrio della corte suprema è stato profondamente modificato con la presidenza trump trump si è trovato in una situazione abbastanza anomala di avere la possibilità di nominare tre giudici supremi in questo momento quindi la composizione della corte suprema degli stati uniti è di sei giudici conservatori e quindi molto critici su la il diritto all'aborto e tre invece liberal quindi le possibilità sono o che il la corte giudichi legittime le leggi del texas e del mississippi e degli altri stati che si pronunciano in in questi termini o addirittura che disconosca la sentenza del 1973 uno dei giudici infatti che ha affermato che nella costituzione americana non c'è nulla che giustifichi il presunto diritto all'aborto e quindi la possibilità che roe versus wave cioè questa storica sentenza venga totalmente smontata dalla corte suprema è molto molto concreta ma in generale non solamente sul tema profondamente divisivo dell'aborto ma su tutti i principi morali cardini della società dal dalla questione della cancel culture a l'immigrazione da parte dei paesi sudamericani o extra americani per passare alle questioni fondamentali sulla famiglia su le leggi per i diritti gay eccetera su tutti questi elementi gli stati uniti appaiono profondamente divisi quasi in termini diciamo di secessione da parte di alcuni stati cioè gli stati liberali la california lo stato di new york in generale gli stati gli stati più ricchi gli stati a maggioranza democratica che in genere sono sono sulla costa hanno una visione del mondo che è totalmente in linea con quella che c'è nei paesi dell'europa occidentale con quella propagandata dall'elite quindi femminista liberale assolutamente contraria a qualunque idea di famiglia che si basi sulla procreazione quindi che sia che sia vincolata alla presenza di un uomo e di una donna in funzione della prosecuzione della specie ma su tutti i temi più importanti a livello etico gli stati dell'america profonda hanno una visione totalmente diversa e sempre più in contrasto con gli stati invece ricchi della costa che sono ultraliberali questa frattura si è manifestata chiaramente con l'elezione di trump ma si sperava che fosse stata messa in soffitta con i risultati delle scorse elezioni presidenziali peraltro contestatissimi perché la vittoria di misura di biden è avvenuta in condizioni assolutamente non equanimi nel senso che da un lato c'era un appoggio incondizionato e totale di tutta la stampa dei social network che hanno bloccato gli account del presidente trump di tutti i personaggi del mondo dello spettacolo della cultura dello sport a favore del candidato democratico ma nonostante questo secondo molti al netto dei dei clamorosi e consistenti brogli che di cui è accusato il partito democratico americano biden avrebbe comunque perso in ogni caso a un anno dalla sua elezione la stella di biden è assolutamente offuscata ma cosa peggiore lo è quella di colei che veniva indicata come la vera presidentessa in pectore e la futura candidata per la casa bianca ossia kamala harris che incarna tutti quelli che sono i principi liberali è una donna è di colore almeno in parte insomma non è bianca diciamo così profondamente femminista convintamente liberal ebbene la stella di kamala che doveva splendere come una stella polare per tutti per tutta la sinistra occidentale invece sembra esserci esserci già spenta vediamo il servizio l'elezione di kamala harris alla vicepresidenza americana era stata salutata dai sacerdoti del politicamente corretto come un evento storico prima donna vicepresidente democratica e di colore almeno in parte la harris incarnava tutti gli elementi del politicamente corretto e veniva descritta come una sorta di salvatrice del mondo dal razzismo e dalla mascolinità tossica e già si pensava a una sua prossima corsa per la casa bianca alle prossime elezioni ad appena un anno dalla contestatissima vittoria del duo biden harris anche per kamala le cose però si stanno mettendo malissimo la signora vicepresidente è impicchiata nei sondaggi ha un indice di gradimento tra i più bassi di sempre con appena un terzo degli americani che apprezza il suo operato ed è considerata incapace ed arrogante dai suoi stessi compagni di partito le gaff e gli errori della harris stanno portando a una vera e propria fuga dei suoi collaboratori decisi a non rovinarsi la carriera politica vincolando la propria immagine a quella della vicepresidente dopo l'abbandono della sua direttrice della comunicazione ashley etienne a metà novembre a inizio dicembre è toccato alla sua portavoce simon sanders dare le dimissioni defezioni che seguono quelle di altri due elementi di punta dello staff della harris carly stacovia e gabrielle de franceschi a dare un'immagine plastica del fallimento della harris sono però i comizi nel 2019 aveva richiamato una folla di 20.000 persone con un comizio evento a oakland la sua città natale masse attirate dal racconto dei media sulla rivoluzione della donna di colore che arriva ai vertici del potere recentemente kamala si è presentata a norfolk in virginia per un comizio e ad aspettarla solo poche centinaia di persone uno smacco terribile per una vicepresidente degli stati uniti che ha potuto contare sul supporto incondizionato di tutti i media a questo punto il prossimo appuntamento cruciale sono le elezioni di midterm e molti temano una vittoria schiacciante dei candidati trampiani e una debacle dei democratici invece e questo contribuirebbe ad aggravare quella polarizzazione quello scontro profondo tra le due anime degli stati uniti e questo naturalmente condizionerà molto profondamente il futuro anche del nostro paese pensiamo per esempio alla questione dell'aborto in italia è stato legalizzato nel 74 appena un anno dopo la sentenza della corte suprema degli stati uniti dunque la vittoria delle elezioni di midterm di una parte o dall'altra ci darà una indicazione già molto chiara ma la divaricazione del popolo americano che a questo punto si può chiamare si potrebbe dire dei popoli americani inizia a rendere quasi credibile uno scenario di rottura del dell'unione degli stati uniti della federazione degli stati americani con gli stati liberali che vanno per conto loro e gli stati dell'america profonda che scelgono invece un destino un futuro di guardare a un progetto complessivo totalmente diverso sembra fantascienza ma per come si stanno mettendo le cose in america non lo è poi così tanto se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale va in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo